Fra i tanti problemi che affliggono le imprese dell'autotrasporto e della logistica c'è anche la carenza di autisti, sia nel settore del trasporto persone, sia nel trasporto merci. Per questo, con Fartigianato Imprese Sondrio, insieme a Sinergy Italia, Risorse Italia e la collaborazione tecnica di Autoscuola San Giorgio di Sondrio, ha dato vita ad Academy Professione Autista in Valtellina. Il progetto formativo è finalizzato al conseguimento delle patenti e i titoli abilitativi per condurre mezzi pesanti. È offerto gratuitamente ai partecipanti grazie al finanziamento del fondo Formatemp. La necessità di formare nuovi autisti, sottolineano il presidente della categoria Autotrasporti di Confartigianato Sondrio, Mattia Dalcazon, e Daniele Gavazzi, vicepresidente e referente per il settore trasporto persone, e la possibilità di ridurre il costo per ottenere le patenti professionali, ha spinto Confartigianato Sondrio a promuovere una partnership sul territorio e il nuovo progetto formativo. L'auspicio è che vi sia una risposta altrettanto positiva sul territorio. L'Academy Professione Autista vuole offrire a disoccupati e inoccupati una nuova opportunità di ricollocarsi sul mercato, contando su un percorso formativo altamente qualificante. Questo primo corso, al Via Maggio, è destinato a 15 partecipanti che saranno individuati e selezionati dai partner del progetto. I partecipanti potranno acquisire, con il superamento dell'esame, le patenti C, CQC, D ed E. Il corso formativo avrà una durata di 160 ore e le lezioni si terranno in presenza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 a Sondrio. La partecipazione è aperta a disoccupati, inoccupati e anche a lavoratori autonomi. L'obiettivo del corso è l'inserimento presso aziende e società del territorio che operano in provincia di Sondrio. L'iniziativa e il progetto conta sulla collaborazione e sul supporto dei centri per l'impiego della provincia di Sondrio. Le richieste di adesione e le candidature possono essere inviate all'indirizzo mail formazione-artigiani.sondrio.it